Bene, torniamo in pista, ci dovrebbe essere Michael Schumacher dal microfono di Stella Bruna così introduciamo il discorso sulla Ferrari. Oggi per la Ferrari solo pochi punti. Solo pochi punti, sì. Non siamo contenti. Come in questi pochi giorni riuscirete a trovare un miglioramento? Vedremo in Germania una Ferrari di nuovo sul podio? Beh, non c'è una nuova Ferrari, ma una Ferrari con un po' di parte veloce, ma adesso siamo un po' troppo indietro. E questa McLaren sembra molto lontana anche? Oggi sì, anche l'altra Gran Premio. Ma la situazione è così, non possiamo fare niente adesso, ma vogliamo cambiare per il futuro. In bocca al lupo. Grazie, ciao.